La partenza di gara 2 dell'Euroformula Open da Spa con la prima fila tutta nipponica di Sato e Tsunoda che vede i due arrivare quasi al contatto in curva 1 con anche Danner che prova ad approfittarne ma riesce Sato a mantenere il primato in arrivo però a Rouge e a Radion il vantaggio della scia permette sia a Lozon che a Tsunoda di avere la meglio così i due alfieri di Motopark e Red Bull vanno in testa si gira intanto Lundquist dopo un contatto con Gonzales il tentativo di attacco di Lozon su Tsunoda che non va a buon fine i due si agganciano e finiscono fuori chiamando in pista la safety car dunque è necessario ripartire con Sato che si ritrova la leadership regalata Hann che per qualche tempo riesce ad essere protagonista con Williams della battaglia per il quinto posto i due però perderanno progressivamente terreno fuori dalla zona punti chiuderà Aldo Festante solo un dicesimo recupera invece tante posizioni un ottimo Lucas Danner che supera prima Jack Duan messo in scacco poi anche da Julian Hansen con dunque due vetture del team Motopark sul podio a celebrare questa domenica dolce amara per la compagine tedesca Sato sempre più leader di campionato che vince davanti a Danner e Hansen Grazie a tutti